Fornone, per la fine di gennaio sarà pronto un libro pubblicato dall'Ardes. In effetti sì, stiamo preparando un volumetto, un volumetto molto modesto, ma secondo me molto significativo. È sulla Bergamaschicità di Angelo Giuseppe Roncalli, il Santo Papa Giovanni XXIII. E non poteva che cadere quest'anno, proprio l'anno dove è stato canonizzato il Santo Papa Giovanni XXIII. Questa piccola pubblicazione è stata offerta da parte di un monsignore della Curia Vescovile, che è Giulio della Vite, che è segretario generale della Curia di Bergamo. Partecipando ad una sua conversazione sul significato della sua autenticità come personaggio di Papa Giovanni, mi è parso significativo, nonostante che siano numerosissime le opere di scritti, la letteratura sul Santo Papa Giovanni XX. È stata prodotta da autori di grande fama, ce n'è proprio tantissima, però questa è una peculiarità che non avevo mai colto in altri volumi sul Papa Giovanni. E noi abbiamo chiesto l'autorizzazione per pubblicare questo lavoro, e lo presentiamo adesso a Natale, e sarà presentato poi al pubblico a gennaio. Sarà una pubblicazione che sarà poi distribuita ai soci dell'Ardese, anche a coloro che lo vogliono, per pochi euro potranno averla. In questa pubblicazione poi è stata inserita una... a modi di presentazione, perché è stato portato a conoscenza di questa pubblicazione il Cardinal Capovilla, il quale ci ha offerto un suo messaggio di saluto a un convegno importantissimo che si è tenuto a Bergamo le settimane scorse, con Enzo Bianchi, che è uno storico di Papa Giovanni, e Massimo Cacciari, che è un filosofo. Ecco, ci ha offerto questo messaggio che noi pubblichiamo in questa pubblicazione. Nell'ultima parte poi abbiamo ritenuto opportuno di parlare, di fare memoria della presenza di Angelo Giuseppe Roncalli nella comunità di Ardesio. E anche qua è stata sottolineata questa presenza numerosissima di Papa Giovanni nelle nostre comunità, insomma, un po' in tutta la Valle Seriana. Sono decine le volte che ha percorso le strade, i sentieri delle nostre comunità. E per cui ci è sembrato importante di ricordarlo in questa occasione. Grazie a tutti.